Conflazio, il tuo sito e-mobile! Le visite da dispositivi mobili sono in continuo aumento e hanno raggiunto il 49% degli accessi totali sul web. Crea il tuo sito Conflazio, sfruttando la semplicità del sistema drag and drop e poi modifica i componenti in base alla dimensione di un dispositivo mobile. Hai a disposizione un editor facile e intuitivo. Tutti i tuoi contenuti saranno perfettamente ottimizzati per ogni schermo. Scopri questa e tante altre funzionalità speciali su www.flazio.com